Siamo in tanti e anche persone di grande peso. Io ho parlato anche con gli altri miei colleghi che conosco tutti. Al momento non abbiamo una risposta tecnicamente ineccepibile, per cui stiamo veramente annaspando nel buio da un punto di vista tecnico. Quindi l'orientamento è su un fatto assolutamente imprevedibile e imprevisto. Adesso non voglio azzardare ipotesi anche catastrofiste, però c'è qualcuno che sta già parlando di attentati o comunque situazioni di questo genere. Hanno colpito e stanno facendo discutere le parole rilasciate durante una lunga intervista alle nostre emittenti da Enzo Siviero. The Bridgeman, l'uomo del ponte, come è chiamato, è un'autorità in questo campo. Ingegnere, architetto, costruttore di ponti, una quarantina solo in Veneto. Per 25 anni è stato professore ordinario all'Uav di Venezia ed ora è rettore di iCampus, Università Telematica. 43 morti, il crollo del ponte Morandi a Genova pesa sulle spalle di tutti gli italiani che da quel tragico 14 agosto si sono sentiti più fragili. Da Genova il procuratore capo Francesco Cozzi a precisa domanda risponde. Sulla base degli elementi noti e conosciuti non ci sono evidenze di esplosioni, ne sono state trovate tracce di bombole di acetilene. Si parla di lampi e fulmini, ma non di esplosioni. Valutiamo tutto, ma non le ipotesi fantasiose. Fiducia nel lavoro delle autorità competenti, ma d'amante della scienza, l'ingegner Siviero continua a studiare. Stiamo cercando di capire se questa compatibilità è oggettiva o meno. E quindi se riusciamo a trovare una compatibilità sarà poi naturalmente agli inquirenti valutare se e come. Però certamente c'è qualcosa che induce a pensare che sia sfuggito, se uno va a vedere, ci sono dei lampi, c'è un crollo verticale di un certo tipo, c'è una rotazione. Insomma, ci sono molti elementi che sono compatibili con questa ipotesi. Io mi riservo nell'arco di un po' di giorni di fare qualche passaggio in più.